Ed è il momento del nostro ospite di questa sera che è al ceste Bartoletti, buonasera, vicepresidente di Agropolis, buonasera. Buonasera. Ecco, è con noi per presentare un'iniziativa che tra l'altra parte proprio oggi è Diversamente Uguali. Sì, è la non edizione di Diversamente Uguali, è una manifestazione oramai conosciuta e affermata in città e non solo. È una manifestazione che abbiamo voluto per ricordare Mana e Gianni Carutti, due mecenati cremonesi e da quest'anno purtroppo anche Gigi Romanini, che è stato il nostro storico presidente che è venuto a mancare qualche mese fa. Ecco, avete infatti un nuovo presidente, di chi si tratta? Abbiamo da pochi giorni un nuovo presidente, Ludovico Gelfi, una persona in gambissimo, una persona che ha già dato la sua totale disponibilità a condurre insieme al nostro consiglio di amministrazione la cooperativa sociale Agropolis. In questa sorta di continuità io e l'altro vicepresidente, Tommaso Tavella, abbiamo dato anche noi la nostra disponibilità ad aiutare, a sostenere il presidente e tutto il consiglio, come abbiamo sempre fatto, per cui in questa appunto onda di continuità porteremo avanti quelli che sono i principi e i progetti, e sono tanti, della nostra cooperativa. Entriamo più nel vivo di questa manifestazione che comincia oggi e si protrae fino al 14 di maggio. Quali sono gli ingredienti di questa manifestazione? Allora, gli ingredienti sono lo sport e la cultura, che sono i due pilastri portanti di questa manifestazione. Inizia oggi, da quest'anno dura un giorno in più, dura dieci giorni, però purtroppo domani abbiamo già un primo problema che è dovuto al maltempo. Le avverse previsioni ci hanno fatto riflettere sulla adeguatezza di portare avanti la manifestazione cielo senza barriere, che si sarebbe svolta all'aeroporto. Appunto, avendo sentito le previsioni e dopo verifiche con l'aeronautica, abbiamo preferito non presentare questa giornata, ma spostarla a una data che verrà individuata. Però ci sono tanti appuntamenti interessanti, c'è la danza, la scuola di ballo, sto leggendo alcune delle iniziative. Ci sono tantissime iniziative, presenteremo 24 discipline sportive, tra le quali come novità avremo la danza in carrozzina, avremo il ping pong, poi andremo mercoledì, ci recheremo con una trentina di ragazzi disabili a Pisa per far provare l'ebrezza della barca a vela, il venerdì 12 avremo il giro in città in carrozzina, con tantissime scuole, quest'anno ci saranno più di 300 persone che parteciperanno, il pomeriggio del venerdì avremo a Canutieri Baldesio il torneo dell'autorità per ricordare Rodolfo Verga, e sabato 13 maggio avremo nel pomeriggio con partenza da Piazza Stradivari una gara con auto d'epoca organizzata con la scuderia 3T, una gara particolare perché è una gara che promuove l'integrazione, quindi il navigatore sarà una persona con disabilità. Per concludere, domenica 14 maggio presso il campo di rugby del Lions Cremona avremo un triangolare e alle ore 17 ci sarà la conclusione con le premiazioni. Quindi l'invito di Agropolis è rivolto a tutti? L'invito di Agropolis è rivolto a tutti naturalmente, è rivolto soprattutto alle persone disabili affinché possano venire, provare una o più discipline sportive e rendersi conto che la loro vita può essere una vita normale anche grazie alla pratica sportiva. Grazie allora Dalceste Bartoletti, vicepresidente di Agropolis, per essere stati con noi. Grazie. Grazie a voi, buonasera.